Dopo la prova di latino, tavole rotonde e visite alla città di Cicerone e alla bazia di Monte Cassino. Prosegue il ricco programma di eventi della 41esima edizione del Certamen Ciceronianum Arpinas che ha richiamato nel centro Ciociaro studenti provenienti da tutta Europa. Quell'Europa che spesso e volentieri noi vediamo disegnata soltanto sulla carta, qui ad Arpino in occasione del Certamen scende in campo perché vediamo ragazzi come dicevo di diverse tradizioni culturali che fraternizzano fra di loro in un programma che è particolarmente nutrito di eventi non solo culturali ma anche di visite delle bellezze del nostro territorio. La visita alla bazia di Monte Cassino è un monumento che ha fatto la storia non soltanto dell'Italia ma dell'Europa visto che San Benedetto è patrono dell'Europa e proprio a Monte Cassino ha la sua casa natale. Il Certamen organizzato dal centro studio umanistici Marco Tullio Cicerone in collaborazione con il Comune ancora una volta ha trasformato la città di Arpino nella capitale europea della latino. Il paradosso è proprio questo che la novità è il Certamen in presenza cioè la novità rispetto agli ultimi due anni è proprio tornare a respirare l'aria del Maggio Arpinate, il Maggio classico, quello cui siamo abituati, cui la comunità Arpinate è abituata da ormai 40 anni. L'obiettivo degli organizzatori è quello di migliorare sempre più l'annuale gara di latino dedicata a Cicerone nata nel 1980 ma sempre con lo sguardo rivolto al futuro. Stiamo interrogando i docenti accompagnatori, stiamo chiedendo loro come può il Certamen reagire alle profonde modifiche che hanno attraversato in 40 anni il mondo della scuola e alle profonde modifiche che hanno attraversato la società con una improvvisa e sicuramente non benvenuta accelerata degli ultimi due anni, sempre con l'obiettivo di fare ancora più grande il Certamen ciceroniano Marpinasse.